ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video torniamo finalmente a parlare anche degli altri sport sinner vola ai quarti di finale a roma finalmente yannick anche in italia fa il grande yannick e arriva ai quarti di finale appunto di di questi internazionali d'italia per la prima volta sconfiggendo appunto krajnovic 6276 primo set senza storia per l'azzurro secondo set l'azzurro parte bene vincendo 2 a 0 e poi si fa rimontare fino al 3 a 2 3 a 3 4 a 3 4 a 4 5 a 4 e così via è un'altra linea di emozioni che porta appunto al tie break tie break che sembra anche questo abbastanza abbastanza diciamo partito bene per yannick che si trova su 4 a 1 ma poi si fa addirittura rimontare fino al 5 a 4 5 a 5 appunto 6 a 6 e poi la chiude 8 a 6 yannick venendo eliminato il primo annullato scusate il primo match point nel secondo match point appunto chiude sull'8 a 6 diciamo che si è un po complicato la vita yannick perché comunque questo secondo set è stato un po diciamo luce e ombre però un grande risultato per yannick risultato che comunque yannick era anche un po più stanco probabilmente dell'avversario visto il match di di fognini di meno di 24 ore fa contro fognini di meno di 24 ore fa e quindi il tenista italiano troverà appunto il greco zizipas che nei precedenti conduce 3 a 1 contro l'italiano speriamo domani di portarlo almeno al 3 a 2 e appunto domani pomeriggio giocherà il nostro tenista contro zizipas questi quarti di finale sogna il centrale di roma sogna il tennis italiano speriamo bene sicuramente è un avversario di un'altra categoria di un altro spessore rispetto a quelli incontrati fino adesso per yannick e quindi sarà un buon banco di prova tra l'altro zizipas scabattuto kachanov non senza fatica scusate cane che fa le scale non senza fatica oggi per 2 7 a 1 perso il primo 6 4 poi ha vinto il secondo 6 0 e il terzo 3 è 6 3 e altri risultati di oggi svere batte deminaur 6 3 7 6 giron perde contro auger alla sim 2 a 0 3 6 2 6 e appunto in questo momento stanno giocando garin e cilic garin ha vinto il primo set 6 3 e setto del secondo di 4 5 scusate un po' l'impappinamento finale ma quando devo leggere i risultati mi impappino un po' e va bene ci vediamo al prossimo video iscrivetevi attivate il campanile mettete mi piace condividete se amate il calcio e lo sport in generale questo canale giusto per voi vi aspetto ciao alla prossima il vostro lontanero